Questo è il window cleaner Klaus. Lui è un window cleaner professionista che conosce bene il suo mestiere. Lavora velocemente ed è un artista nell'uso del vello e del tergivetro. Ha due dipendenti e una buona base di clienti. Ma Klaus non riesce a stare dietro alle richieste di tutti i clienti. Prima di tutto non ha abbastanza personale. Secondo non può lavare i vetri alti perché sono difficili da raggiungere e si dovrebbe attrezzare con una costosa piattaforma. Ora però esiste una soluzione intelligente, una nuova tecnologia per lavare i vetri in modo professionale. L'acqua pura. Ci sono molti vantaggi. È molto più veloce dei sistemi tradizionali perché non è necessario steccare il vetro e le operazioni si riducono da due a una. Ciò significa con lo stesso personale si lavano più metri quadri nello stesso tempo con un guadagno maggiore. E le applicazioni sono molteplici perché con le aste idriche modulari è possibile raggiungere e lavare vetri fino a 20 metri d'altezza o aree difficili da raggiungere. In totale sicurezza lavorando con i piedi a terra anziché usare scale o costose piattaforme e cestelli. Ed è ecologico senza l'uso di prodotti chimici. Grazie all'acqua pura Klaus ha fatto un salto di qualità ed è perfettamente attrezzato per diversi tipi di interventi. Ma che cos'è l'acqua pura e come funziona? Come suggerisce già il nome è semplicemente acqua pura. Di solito l'acqua contiene sali e minerali invisibili per l'occhio umano ma che lasciano macchie una volta asciutti. Un esempio classico è quello delle macchie sui vetri e sull'acciaio della doccia. L'idea è molto semplice. Rimuovere tutti i minerali dall'acqua e non ci saranno residui sui vetri. E c'è qualcosa di più. L'acqua demineralizzata è una molecola instabile che cerca i minerali rimosse attraendo lo sporco come una calamita. Per esempio sui vetri sporchi l'acqua pura rimuove lo sporco molto più efficacemente. Il risultato? Petri profondamente puliti senza alcun residuo di sporco o sapone. Ma come si ottiene l'acqua pura? Molto semplicemente dal rubinetto. Che solo bisogno di uno strumento per filtrare i minerali. Per esempio i nuovi demineralizzatori hydropower hunger. Il funzionamento è molto semplice. La resina filtrante è confezionata in pacchetti di resina ultra ed è facile da cambiare come le cialde in una macchinetta del caffè. Avanti verso il futuro con l'acqua pura e hunger. Efficace, efficiente, ecologico.